ciao bella gente e benvenuti al mio canale io sono Amal e oggi ho cominciato al contrario per avere un risultato dei capelli così favolosi bellissimi come dei ricci super 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 belli super definiti morbidi guardate che li separo un po' guardate che belli che bellezza per avere un risultato così vi lascio al video così vi svero questo segreto dei capelli ricci stupendi come questi vi lascio al video da capelli effetto palia sentite il rumore sottofondo ho lavato i capelli e comincio con lo styling buona visione buona visione Grazie a tutti. 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 Come vedete. Grazie a tutti. tanto fastidio quindi preferisco legarli in questo punto così quando mi fanno il giro non mi si non mi cadono solo gli occhi tipo come questa così i capelli sono favolosi ricci sono stupendi sono veramente molto contenta vi faccio vedere bella gente se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e voilà